La passione per il mestiere di costumista e la passione per il cinema sono sempre state ben distinte e nate in due momenti diversi. La passione per l'abbigliamento mi è nata frequentando la sartoria dove la mia nonna materna lavorava e vedere per me da bambino le stoffe che da bidimensionali arrotolate diventavano tridimensionali sul manichino era una magia, una magia che poi veramente si è trasformato in un amore potente per l'abito ed ho iniziato a collezionare abiti d'epoca dapprima trovati in casa in famiglia e poi con il tempo trovati sul mercato antiquario. È questo lato, è il lato archeologico della moda, dell'abbigliamento che a me ha fatto scaturire poi il mestiere di costumista che è venuto con gli studi, che è venuto con il centro sperimentale, che è venuto con l'incontro di Piero Tosi. Ho capito che si poteva trasformare in un mestiere questo amore che io avevo per il passato. Non ho mai voluto fare lo stilista, anche se mi è stato chiesto varie volte, non ho mai avuto voglia di affrontare quel mondo tra virgolette più effimero del mio se vuoi. Cinema per me è realizzare un sogno, è realizzare tutto ciò che io ho studiato, tutto ciò che è il mio bagaglio culturale, tutto quello che è la mia passione nella ricreazione di abiti, perché io non credo nella parola creare nell'abbigliamento, ma credo nella parola ricreare, creare un mondo, un mondo passato, un mondo che non esiste più, che poi si trasforma magicamente sullo schermo e aiuta l'attore a entrare in un personaggio ed aiuta lo spettatore a calarsi in un mondo, un mondo fatto di magia appunto. L'aspetto che ti amo del mio lavoro è la ricerca, è la documentazione, è lo studio. Io passo nottate intere a guardare libri e abiti d'epoca per poi arrivare il giorno dopo in sartoria e tradurre il mio pensiero in verità. Non parlo di studio solo per la storicità ma anche per la contemporaneità. Per me affrontare un progetto contemporaneo è molto più difficile, il passato è chiuso quindi puoi sapere tutto e puoi vedere tutto. Il contemporaneo avendolo davanti agli occhi ti crea a volte una specie di distorsione, per questo amo molto mischiare il moderno al vintage in modo che allo spettatore arrivi il senso di verità di quello che noi siamo fatti, perché noi nell'armadio non abbiamo cose all'ultima moda, siamo fatti di vintage. La parte invece che mi fa più soffrire è il tempo, non è mai per me abbastanza. A me mi devono togliere gli abiti da sottomano perché posso continuare a pensarci e a cambiarli all'infinito. Molte volte anche la mattina stessa, prima che vadano a girare gli attori, faccio diventare pazzi sarti perché cambio idea su delle robe a volte impossibili da realizzare, ma grazie a Dio mio team è pieno di gente meravigliosa che mi aiuta in questo sempre. Il modo migliore per imparare ed avere la possibilità di fare il mio mestiere è quello di studiare, 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 studiare. Io dico sempre a chi mi contatta, a chi mi telefona, a chi vuole dei consigli. Faccio un esempio stupido, faccio l'esempio di Picasso, inventò il cubismo, ma non inventò il cubismo non sapendo disegnare, inventò il cubismo avendo delle basi enormi di disegno. Ed è questo secondo me che è la forza di un costumista, è il sapere. Il sapere è il periodo che devi andare a rappresentare in modo che tu puoi trarne l'essenza e farla tua e poi farla arrivare sullo schermo. Quindi lo studio è fondamentale, la passione è fondamentale ed è fondamentale non giudicare, è fondamentale non soffermarsi sul bello o il brutto perché è molto soggettivo, è fondamentale soffermarsi sul giusto e lo sbagliato perché poi è quello che arriva al pubblico. Il giusto e lo sbagliato arriva al pubblico, il bello e il brutto non arriva mai. Grazie.